Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nostro canale. Oggi apriamo un pacco Amazon Prime e vi ringraziamo tantissimo per il traguardo dei Settecento e niente iniziamo ad aprire. Eccoci qui e adesso vediamo cosa c'è nella scatola sembra bellissima eccoci qua appunto è bellissima questa scatola con tutto il cielo stellato iniziamo ad aprire l'apro cerco di non romperla perché la voglio tenere la scatola wow che bella lampada qua ci sono oggi questi sono per fare vedere le forme che vuoi tu qua ci sono i pianeti sui bellissimi il mio preferito qua nella foto è questo qua. Poi abbiamo questo un altro marino che c'è la d'alena e pesci qua c'è la luna fatta bene molto bella con le stelle bellissime anche queste belle sembrano quelle che ovviamente si vedono dalla terra perché non si sa bene ancora come sono fatte. Poi abbiamo questo credo sia per il compilanno magari quando è il vostro compilanno potete mettere questa nella notte. è tutto tema compilanno e adesso passiamo quelli grandi qua abbiamo le stelle e qua abbiamo sempre questo con il happy birthday vedete qua c'è solo scritto happy qua fa vedere i pianeti, il sole, il pistasmo, il pistasmo, il pistasmo, la terra e questo e qua un altro stile mare oceano può girare come si vuole perché comunque i pesci vanno dove vogliono comunque andiamo avanti qua c'è il cavetto qui apriamo la lampada ce ne sono altre qua dentro questa lampada è della marca Shison e niente vi volevo spiegare un po' come si usa un po' da miseria vabbè iniziamo con questo e questo si appunto si leva e si prende come sto volendo se vuoi devi cambiare si prende questo e poi questi servono così si gira si attacca da lì e si mette dentro ecco qui e i temi sono cinque perché c'è questo che è questo che abbiamo adesso trovato dentro poi c'è quello compleanno che è qui vorrei dire poi c'è quello a tema del mare quello a tema della luna e stelle pianeti e anche quello dei pianeti appunto tutti i pianeti ci sono due pulsanti per accendere e spegnere e cambiare il colore e cambiare l'intensità della luce poi qua c'è quello per mettere il cavetto usb e qua sotto volendo se non volete usare il cavetto usb c'è sempre lo scompartimento per mettere le pile che sono in tutto tre sono una due trazie e adesso andiamo a vedere come funziona consiglio questa lampada come idea regalo questa lampada è davvero stellare vi lascio il link in descrizione grazie mille Tina e spero che questo video vi sia piaciuto mettete un pollicione in su iscrivetevi al canale attivate la campanellina per ricevere tutte 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 le notifiche condividete con tutti i vostri amici con i vostri genitori con i vostri fratelli con le vostre sorelle e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao